Allora, io sono Ippolita, Ippolita Santarelli. I miei amici mi chiamano Poppy. Un giorno stavo girando per la campagna con la mia Vespa, quando vidi un ragazzo con le stampelle. Era la prima volta che vedevo Dave. Noi viaggiamo insieme e ci divertimmo molto. Lui è il mio piccolo Marlon e mi piace molto ballare con lui. Mi persuase a diventare un pezzo da museo ed io non l'ho più visto. Mi piacerebbe uscire e ballare ancora con lui, forse un giorno, chissà. Ciao!